Musica Ben ritrovati ad Ultima Tg, apriamo con la cronaca. Caso di stalking a Catania aveva ripreso a minacciare di morte la ventenne dalla quale ha avuto un figlio di 10 mesi perché non voleva riallacciare la loro relazione. E l'accusa contestata a un 24enne catanese che è stato arrestato dai carabinieri. Minacce continue di ogni tipo, anche di morte, una persecuzione senza fine. Era questa la vita angosciante che era costretta a condurre una ragazza di soli 20 anni di Catania per colpa del suo ex compagno e padre del piccolo di 10 mesi nato dalla loro relazione. Niente di nuovo per la giovanissima ragazza che aveva già denunciato il suo ex che non si era mai rassegnato alla fine del loro rapporto. Nel novembre dello scorso anno infatti l'uomo era già stato arrestato. Secondo l'accusa il 24enne spegneva le sigarette sulle braccia della sua compagna che aveva conosciuto nel 2016 su Facebook. La chiudeva a chiave a casa quando andava al lavoro e la minacciava «Se mi lasci ti toglieranno il bambino e non lo rivedrai mai più». Dopo un breve periodo di detenzione l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari e infine era tornato in libertà con il divieto assoluto di avvicinarsi alla donna e ai suoi familiari. Ma questo non gli ha impedito di tornare a minacciare su Facebook la giovane e alcuni suoi parenti, in particolare la sorella e la nonna materna, con frasi gravemente intimidatorie come «ora che sono libero vi ammazzo tutti quanti». Inoltre nei primi giorni dello scorso mese di febbraio, durante i festeggiamenti per Sant'Agata, patrona della città, si sarebbe avvicinato a lei mimandole con la mano il segno del taglio della gola. Le denunce esposte dalla vittima hanno portato all'approfondimento delle indagini da parte dei carabinieri che, accertati nuovi episodi di stalking, hanno arrestato e posto ai domiciliari il 24enne per atti persecutori e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Ci spostiamo a Maletto, in provincia di Catania, dove c'è un vero e proprio clima di terrore, per l'ipotesi che Cirino Buccheri, l'uomo che un anno fa sparò al suo vicino di casa, possa ritornare. «Siamo a Maletto, una vicenda molto complessa, c'è un processo in atto al momento, una lite tra vicini, prima una minaccia con un coltello, la lite determinata da un parcheggio, in realtà finita poi nel sangue con proprio un colpo di pistola sparato proprio al fratello di Cinzia Satella che è qui al nostro fianco». «Quella sera del 23 dicembre del 2016, circa verso le 18.30, mio fratello sosta il furgone sotto nel garage e all'improvviso, Buccheri Cirino, suona i citofoni all'impazzata, in cui chiedeva di spostare quel furgone, con un tono molto acceso e aggressivo. Mio fratello gli dice, salvo un attimo solo che lo vada a spostare, ma questo non giustifica il suo modo di essere così aggressivo da tantissimo tempo, da circa 30 anni, che cerca di tenere pressione a tutti. «Quella sera, mio fratello salendo poi le scale, perché aveva dimenticato alcune cose, Buccheri Cirino si presenta con un coltellaccio da macellaio e cerca di perseguitare mio fratello nelle scale e cerca di colpirlo, ucciderlo, ma salvo si difende e cerca di fargli cadere il coltello e ci è riuscito, fortunatamente, ma non è finita qui». Sembrava che la cosa si fosse calmata, invece lui dopo circa altri 10-15 minuti, salvo riscende le scale perché aveva dimenticato alcune cose e lui punta la pistola verso la testa e gli dice «adesso ti ammazzo», una cosa del genere, e infatti ha sparato. Venerdì c'è stata un'udienza, noi abbiamo sentito ovviamente il difensore di Cirino Buccheri, l'avvocato Enzo Trantino, che ci ha spiegato proprio questo. Per un anno e quattro mesi Buccheri è stato praticamente trasferito, allontanato dalla città di Maletto ed è stato trasferito ad Adrano. Vive con una pensione minima perché è un uomo di 78 anni con 600 euro al mese. in questa casa, definita addirittura al difensore quasi un tugurio, quindi hanno fatto una richiesta per il riavvicinamento qui a Maletto. Questa cosa però preoccupa molto voi, perché? Perché qui non siamo, come vedete, in una grande metropolitana, è un paese piccolo, perciò è molto facile incontrarsi tra vicini di casa e tra paesani, perché abbiamo solo una farmacia, ci sono solo due tabacchini, insomma c'è un rifornimento in piazza, perciò è molto facile incontrarlo. Non viviamo in una grande città, Maletto è un piccolo paese, perciò abbiamo paura di rincontrarlo, perché già la sua visione, sinceramente noi già stiamo male. Ho paura se lui ritorna qua, perché io sto male, i miei figli non vengono più a casa mia e stiamo tutti nel terrore, perché ancora la pistola non si trova, perché è un uomo orribile, è stato sempre cattivo, ai confronti di tutti, non solo con me, con tutti. Ci spostiamo a Palermo, dove sono indagati 5 medici della Clinica Candela per la morte di una neonata, avvenuta giovedì scorso, subito dopo il parto. Indagati 5 medici della Clinica Candela a Palermo per la morte di una bambina appena nata. Si tratta di un atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini sul decesso, avvenuto giovedì scorso in una delle cliniche più celebri della città, come punto di riferimento per l'eccellenza per i parti. Secondo la denuncia presentata dai familiari della piccola, la madre sarebbe arrivata in clinica con le doie, e subito dopo i medici avrebbero controllato il tracciato. In quel momento il feto era vivo, come dichiarano i parenti. Poi qualcosa è improvvisamente cambiato. I medici hanno deciso di intervenire con un parto cesareo, ma la neonata poco dopo è morta. Adesso i familiari chiedono di sapere cosa è successo in sala parto. La difesa legale della clinica ha spiegato che sono state sequestrate le cartelle cliniche. La magistratura ha disposto all'autopsia. Adesso partiranno le indagini per ricostruire una vicenda dolorosa. Ginecologo accusato di violenze sessuali sempre a Palermo, si costituisce oggi parte civile la tunisina di 28 anni che ha denunciato il primario. La giovane tunisina che ha denunciato abusi sessuali e fatto arrestare il ginecologo Biagio Adile, primario di uroginecologia dell'ospedale Cervello di Palermo, si è costituita parte civile. La donna sarà rappresentata al processo in corso davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo dall'avvocato Michele Calantropo. Gli episodi di violenza contestati sarebbero due. Uno sarebbe avvenuto nello studio privato del medico, l'altro in ospedale. Biagio Adile fu arrestato lo scorso 2 novembre dopo la denuncia presentata dalla sua paziente. Dopo il primo appuntamento in cui la donna riferisce di essere stata palpeggiata dal medico, al secondo si sarebbe presentata al cospetto del primario con un cellulare nascosto nella borsa pronto a registrare. In quel file audio analizzato da un perito e consegnato alla magistratura ci sarebbero le conferme delle accuse mosse dalla donna che ha denunciato il medico a febbraio dello scorso anno. Dal telefonino della paziente sono stati estratti due filmati, il primo dura circa 6 minuti, l'altro 5 minuti. Intanto gli avvocati che assistono il ginecologo Antonino Agnello e Gioacchino Genchi hanno ottenuto che la perizia eseguita sul telefonino della vittima venga tolta dal fascicolo. Il presidente della seconda sezione del tribunale, Lorenzo Matassa, ha accolto l'eccezione degli avvocati che puntava sulla scoperta che il telefonino della vittima non è mai stato sequestrato nonostante ci fosse un verbale di sequestro firmato dalla procura. La perizia sarebbe stata eseguita attraverso la procedura del backup. Il tribunale ha quindi deciso per il sequestro del cellulare. Nel corso delle deposizioni della vittima che si sono tenuti alla presenza di una psicologa e di un interprete in lingua araba, la donna, arrivata a Palermo e ospite di una casa famiglia, ha raccontato di soffrire di gravi problemi ginecologici che in Tunisia l'avevano costretta a subire ben 13 interventi chirurgici e di essersi per questo motivo rivolta all'indagato. Domani è prevista una seduta di Consiglio Comunale Rovente a Catania con all'ordine del giorno l'approvazione del piano di rientro per la rimodulazione dei debiti. La vera verità è che oggi siamo a fine mandato, oggi ci potrebbero essere da parte di qualcuno delle strumentalizzazioni partitiche e politiche che potrebbero fare capire chi è contro questo sindaco, chi è a favore e questo danneggerebbe la città. Per questo io dico che la maggiore coscienza da parte di tutti con la sensibilizzazione che il sindaco potrebbe avere è quella di venire in aula e di conseguenza dire che questo appartiene non certamente a me sindaco che lo potrà essere domani ma appartiene a quello che potrà essere il prossimo sindaco a prescindere almeno di chi possa essere, appartiene di conseguenza alla città, ai cittadini catanesi. Un piano di rientro che va oltre la sua semplice approvazione. La seduta comunale di domani potrebbe andare deserta o comunque non si riuscirebbe a raggiungere il quorum necessario fissato a 23 consiglieri presenti. Insomma, la prima seduta post elezioni nazionali potrebbe lanciare un messaggio ben preciso di tipo politico in vista delle comunali a metà giugno. Un messaggio all'attuale primo cittadino di Catania in vista di alleanze e schieramenti. Siamo alle solite perché, ripeto, un documento importante come questo non può avere una scadenza del 15 e i consiglieri comunali non essere impreparati. È un documento molto importante che vincola i nostri cittadini per anni. È un documento importante che può dare la possibilità di spalmare in maniera diversa rispetto al vecchio piano di equilibrio già approvato dall'aggiunta Passaggio Stanganelli-Bianco. Bene, siamo qui. Vedremo. Noi stiamo attenti, siamo sempre vigili. Siamo stati abbastanza anche in gamba nel fare quello che è un programma importante. Domani c'è il primo Consiglio Comunale, mercoledì c'è il secondo e oggi siamo qui a lavoro con l'assessore Andò. Che sia centrodestra o centrosinistra, la questione prioritaria resta comunque il piano di rientro che va approvato entro il prossimo 15 marzo. Da qui la richiesta dei vicepresidenti del Consiglio Comunale affinché Bianco sia presente domani in aula. Esattamente, da poco più di un anno. L'ultima volta è stato il 7 marzo dell'anno scorso perché ho obbligato ancora una volta da una raccolta di firme di consiglieri comunali. Noi intanto stiamo parlando di un piano di rientro che è appena arrivato perché ci è stato inviato il venerdì pomeriggio. Questo ancora non è all'ordine del giorno perché stiamo attendendo la modifica dell'ordine del giorno. Quindi fare le cose in fretta e in furia ma cose importanti perché impegnano la città per i prossimi 30 anni. E continuiamo a parlare di bilancio però in questo caso delle casse della società del Palermo Calcio. La procura infatti di Palermo ha presentato le contradduzioni sulla situazione finanziaria del club rosa nero. Un nuovo capitolo, un atto dovuto per un processo che va avanti. La procura di Palermo ha presentato le sue contradduzioni alla consulenza dei periti del Tribunale. depositato lo scorso 28 febbraio dopo l'istanza di fallimento della società Palermo Calcio avanzata da IPM. Adesso la palla passa di nuovo ai periti del Tribunale di Palermo che avranno tempo fino al 20 marzo per integrare la loro consulenza prima di presentarla al Tribunale. Poi verrà fissata un'udienza che dovrebbe essere l'ultimo passaggio per la discussione delle parti. I PM contestano alla valutazione dei giocatori resa nero che varrebbero oltre 58 milioni di euro, 16 in più di quanto li ha valutati per conto del club di Zamparini, la società Wallabies. Ma soprattutto ben 39 milioni in più rispetto alla valutazione che lo scorso novembre aveva fatto il consulente della procura Alessandro Colaci. Per la procura inoltre la situazione economica del Palermo è ancora critica perché è molto incerta l'entrata di 28 milioni di euro, anche se il presidente Zamparini nelle ultime settimane ha messo sul piatto denaro liquido per la sistemazione di alcune pendenze, compreso quella con il fisco. Resta da chiarire l'operazione che ha portato alla cessione del marchio Mepal alla lussemburghese Alissa. Per i magistrati Alissa non avrebbe le risorse per chiudere il debito con il Palermo. Scaduto il termine obbligatorio per le vaccinazioni dei bambini previsto dal decreto Lorenzin, l'assessore regionale alla formazione della Galla, in accordo con l'assessorato alla salute, ha però prorogato il termine fino al 31 marzo. 20 giorni di proroga per i bambini non vaccinati che potranno essere accolti dagli istituti scolastici nonostante il termine scadesse il 10 marzo. A deciderlo l'assessore regionale alla formazione Roberto Lagalla, in comune accordo con l'assessorato alla salute. Ancora qualche giorno si potrà conoscere il numero dei bambini non coperti dai 10 vaccini previsti dal decreto Lorenzin. Secondo il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza, la percentuale dei bimbi vaccinati è superiore al 95%. Esito auspicato principalmente perché i vaccini sono un diritto o obiettivo annunciato dal decreto. In provincia di Catania però la percentuale di bambini che frequentano l'asilo, circa 30.000 non vaccinati, sarebbe del 10-15% in particolare per ciò che riguarda malattie come morbillo, parotite e rosolia. Qualche giorno fa l'ASP di Catania e l'ufficio scolastico provinciale hanno diffuso un protocollo operativo per definire gli adempimenti e gestire le fasi organizzative delle vaccinazioni. A questo punto ci si chiede cosa succederà in questa fase. Se i minori non sono in regola, gli istituti scolastici sono costretti a sospendere il servizio, non l'iscrizione, per i bambini da 0 a 6 anni, mentre nella scuola dell'obbligo dovranno essere applicate sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro. Protesta oggi in piazza Università Catania delle aziende degli Esporgo Pozzineri, dopo incontri e conferenze dei servizi nella sede della Confcommercio agli imprenditori lamentano una situazione di assoluto stallo. Un sit-in di protesta per chiedere certezze per il futuro e la fine delle limitazioni all'impianto di Pantano d'Arce a Catania. Stamattina in piazza Università le aziende per l'Espurgo Pozzineri in attesa di un incontro con il prefetto di Catania. La problematica in soldoni è legata al fango che viene prodotto dall'impianto di depurazione, non si sa se questo fango debba andare in compostaggio come lo è stato per 50 anni a questa parte oppure se deve andare in discarica. Da lì è quello che oggi chiederemo appunto al prefetto, dovremmo capire proprio questa domanda che noi porremo. Aspettiamo l'ordinanza di cui parlava l'assessore Dagata, ma ancora ad oggi non abbiamo notizie sotto questo profilo, quindi la situazione rimane abbastanza grave. Si è esaurita la pazienza perché oltre a questo dobbiamo sopportare le persone che chiamano piangendo, dicendo di aiutare e noi siamo proprio impossibilitati a muoverci. Perché noi non vogliamo andare in altri siti perché i costi sono abbastanza elevati, noi non ce la facciamo più. Abbiamo costi a rischio di lavoro, noi stessi come titolari non ce la facciamo più, ripeto, il prefetto questa volta ci deve aiutare, ci deve ascoltare. Adesso vi raccontiamo la storia di Sabina Rezzo. Nel 2014 scopre di avere la leucemia e da lì inizia il suo percorso verso la guarigione. Dalla sua malattia nasce un blog, Trenta Pere. Nel 2014 la mia vita è cambiata nettamente, è stata una sorpresa, anzi una sorpresa di carnevale perché ho saputo di avere la leucemia mieloide acuta proprio il 5 marzo che era il martedì di carnevale. Lei si chiama Sabina Rezzo, 52 anni, insegnante e mamma di tre figli. Ciò che colpisce subito di questa donna è il suo sorriso, la sua forza, la luce dei suoi occhi che le hanno permesso di superare e vincere contro una malattia che sembrava più grande di lei. A marzo del 2014 la sua vita cambia radicalmente. Dopo diversi controlli la diagnosi, leucemia mieloide acuta. Appena mi è stato detto ho detto quanto tempo mi rimane. Dopodiché sono stata consolata dicendo ma sa non è più così, oramai si guarisce. E lì comunque appena uscita da quello studio ho trovato tutti gli amici che mi hanno reso molto più dolce il boccone. Mi hanno fatto ridere e così ho intrapreso la mia malattia, il mio percorso. Sono stata immediatamente ricoverata e ho detto ai miei figli di non preoccuparsi perché alla fin fine mi dovevano solo fare una pulizia del sangue. Da qui l'idea di non perdere un solo attimo di questa esperienza, di ricordare ogni singolo messaggio di quei lunghi mesi ed è così che nasce il suo blog Tra Trenta Pere. Ogni mio ciclo di chemioterapia era 30 giorni. Ogni giorno mi davano una pera che mio marito regolarmente, non mangiandola io, la portava a casa. Io abito con mia sorella nello stesso pianerottolo. Il bambino di mia sorella chiese a mio marito, zio ma quando torna la zia a casa? Avendo in mano una pera, mio marito gli rispose, la vedi questa pera? Tra Trenta Pere la zia tornerà a casa. E Trenta Pere è nato come blog per raccogliere tutti quei messaggi d'amore che ho ricevuto, io ho chiamato sms d'amore, tutto quello che mi succedeva. Però tutto quello che mi succedeva è descritto ironicamente. Io mi sento di dire che la malattia si deve combattere intanto col sorriso e la testa deve essere sempre lucida, non ti devi abbattere mai. Io non ho mai avuto un momento di sgomento per dire non ce la faccio. Ecco, questo non si deve dire mai. Il non ce la faccio è una parola da non usare proprio. E' andato in scena nel pomeriggio del Dipartimento di Scienze Politiche lo spettacolo teatrale Stupido Risico prodotto da Emergency con il centro del tema, il delicato tema delle storiche guerre mondiali. Uno spettacolo teatrale in chiave ironica ma che invita a riflettere sulle guerre del Novecento fino ai conflitti attuali in territori martoriati. Stupido Risico è andato in scena nel Dipartimento di Scienze Politiche a Catania prodotto da Emergency, ONG Onlus ed interpretato da Mario Spallino con regia di Patrizia Pasqui. Lo Stupido Risico è un atto unico di 75 minuti interpretato da Mario Spallino, regia e scrittura invece di Patrizia Pasqui. Ed è uno dei spettacoli che viene portato avanti dalla compagnia teatrale di Emergency e bisogna anche pensare che Emergency è sempre risultato un po' anomala rispetto al panorama dell'ONG. perché da un lato porta avanti un servizio di assistenza nei paesi colpiti da guerra, da disgrazia di simile natura, dall'altro però ha come obiettivo quello della diffusione della cultura di pace, dell'abolizione della guerra e della difesa dei diritti umani, il quale viene portato avanti da noi volontari attraverso diverse strade e dall'associazione attraverso meccanismi come per l'appunto lo spettacolo per ora in corso. Un appuntamento utile anche ad approfondire e valorizzare il grande impegno umanitario di Emergency in un periodo che vede spesso al centro il tema dei migranti. Persone che hanno un carico di sofferenza legate ai paesi di provenienza ma anche a tutto questo percorso drammatico, necessario che gli italiani sviluppino ancora più una coscienza di accoglienza ma soprattutto in questo momento storico è importante la nostra testimonianza, la testimonianza di Emergency come di altre organizzazioni, di altri volontari per far comprendere che l'essere umano è sempre soprattutto ha diritto alla vita, diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto rifacendoci tutti noi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e comunque forse abbiamo dimenticato che anche noi abbiamo sofferto, anche noi siamo stati dei migranti ecco bisognerebbe ricordarsi ogni tanto la nostra storia per aprire le nostre case e accogliere queste persone. Inaugurata ieri a Catania la nuova clubhouse dei briganti Librino, casa della squadra del rugby catanese La solidarietà al centro di un processo di ricostruzione, dopo l'incendio doloso alla clubhouse dei briganti e della Librineria dello scorso 11 gennaio 2018 diverse realtà sportive regionali si sono mosse per dare una nuova casa alla squadra catanese Nella giornata di ieri la nuova clubhouse è stata inaugurata con una grande festa un momento di forte aggregazione allargato a tutti i volontari e i sostenitori performance teatrali, spettacoli ma soprattutto tanti sorrisi e l'entusiasmo di chi intende rinascere Messa in sicurezza l'abitazione è ricostituita la nuova Librineria per diffondere la cultura nel mondo di grandi e piccini ma tante sono le attività collaterali connesse alla nuova clubhouse Una di queste è il doposcuola destinato ai bambini che abitano nel quartiere nella periferia sud della città etnea Per i briganti Librino si apre una nuova pagina con la speranza che il ricordo delle fiamme possa svanire il prima possibile E adesso ci fermiamo per la pubblicità subito dopo, lo sport Catania Social Club Con Davide Baiocco e Jonathan Spinesi Due storici volti rosso-azzurri Due amanti del Catania si confronteranno sulla stagione della squadra etnea Insieme a giornalisti e tecnici Analisi tattica ma anche spazio alle emozioni Catania Social Club Il presente rosso-azzurro Visto da chi ne ha fatto la storia Amore, non dimmi neanche dopo anni che tutti i suoi regali ti hanno sempre fatto schifo E infatti siamo davanti al totem dei coupon Così i regali te li fanno quelle zagare don Geni, ma che fa te lo sei sentito? E vedi, io sono come il coupon E ti regalo ogni giorno il mio affetto Bello Peccato che per questo regalo scontrino per il cambio non ce n'è Grazie a tutti Grazie a tutti Veniamo allo sport Il derby della 29esima giornata di campionato tra Sicula, Leonzio e Catania si chiude a Reti Inviolato il racconto del match nel servizio di Giovanni D'Antoni Una gara cesa, una gara maschia che non a caso aveva l'appellativo di derby La partita che segnava il ritorno a casa della Sicula, Leonzio non è stata di certo entusiasmante Sul fronte giocato, poche occasioni ed emozioni e per lo più di marca ospite I duelli in mezzo al campo ci sono stati Primo su tutti la lotta contro il manterboso dello stesso nobile Ritenuto dai protagonisti non adatto a partite di questo calibro La cronaca Lucarelli riconosce l'importanza della partita e preferisce il 4-3-3 con il giovane Mane preferito A Di Grazia nel reparto offensivo insieme a Barisic e a Curiale Di contro i lentinesi di Emo Diana, anch'essi disposti con le tre punte Pongono la sfida su un piano fisico e nervoso Scelta intelligente per neutralizzare le fiammate, poche, dei rossazzurri nella prima frazione Tanto agonismo e il ritmo spezzettato e il riassunto dei primi 45 minuti Catania decisamente più aggressivo nella ripresa e con più insistenza nella metà campo bianconera Ma i pericoli per Narciso si contano sulla punta delle dita Al contrario la Leonzio dimostra di essere viva e quando può specialmente in contropiede prova a pungere Al sessantottesimo lo stacco di testa di Bogdan, già a segno all'andata Viene intercettato e salvato nei pressi della linea di porta Mentre il neo entrato riparisca a due dal novantesimo il colpaccio Con una girata sugli sviluppi di un corner che coccia sul palo Il derby dell'Angelino Nobile sorride solo alla Leonzio Squadra capace di uscire indenne dagli scontri contro le prime tre del campionato Rammarico e delusione invece in casa Catania Vista la chance di rosicchiare punti a Lecce e l'aggancio subito per opera del Trapani E adesso le interviste post partita dei protagonisti di Leonzio Catania Diciamo che in una partita che sembrava più di rugby che di calcio Perché avevo la curiosità di venire a vedere questo gioiello E purtroppo credo che su un campo così sia veramente difficile giocare a calcio Non mi spiego le rincorse per giocare in un campo del genere Perché non rende neanche merito alla Leonzio Io sono contentissimo Io penso, l'ho detto anche ai ragazzi a fine partita Che la prestazione caratteriale di oggi Rafforza ancora di più la convinzione in me che vinceremo il campionato Le vere occasioni della partita le abbiamo avute noi I salvataggi sulla linea, pali Per quello che era possibile giocare a calcio lo abbiamo fatto E quindi ripeto, io ho sventato nello spogliatore ai ragazzi Ho detto non voglio vedere neanche una testa bassa Perché noi la prestazione di oggi dice che abbiamo grandissime possibilità di vincere il campionato Chi pensava che fosse il derby dell'amicizia si è sbagliato Non mai preparato come se fosse un derby dell'amicizia Beh sì, ci aspettavamo Poi sinceramente il campo non aiuta tantissimo a giocare a calcio Né noi né loro Siamo a prendere la maschia Ha giocato sulle seconde palle Sapevamo che era questo Abbiamo cercato qualche volta di mettere la palla a terra Come ha provato anche il Catania E abbiamo fatto fatica un po' a tutte e due le squadre Chiaramente il Catania è una squadra molto, molto fisica E ci ha messo in difficoltà un po' sulle palle in attiva Sono un po' rammaricato per il risultato Ma per la prestazione della squadra credo sia stata comunque quella giusta Quella di una squadra che voleva a tutti i costi tre punti Che si è calata in questa realtà senza disegnare la lotta che proponevano loro Ma reagendo colpo su colpo Purtroppo non ci ha detto benissimo sugli episodi Se vincevamo non c'è nulla da dire Nel senso che abbiamo creato molte occasioni Con un palo, salvataggi sulla linea È stato bravo il loro portiere Però nonostante ciò sapevamo che comunque loro erano un'ottima squadra nelle ripartenze Quindi dovevamo attaccare ma con equilibrio Ci crediamo fino a quando la matematica non ci dà esclusi per il campionato Ci crediamo Ci crediamo perché ancora il campionato è lungo Anche se sono poche partite di meno Ma ancora sono tanti punti in palio Serie C, grande vittoria del Trapani e di Alessandro Calori Polidori ed Evacuo sigliano un successo importante per i Granata Che salgono a 53 punti in classifica Era un crocevia importante per entrambe Obiettivi diversi e diverso umore Catanzaro e Trapani si sono battute senza esclusioni di colpi Ma alla fine ha prevalso la solidità Granata Il successo per 2-1 della squadra di Calori sui calabresi è dettato dalla capacità di soffrire E tener botta anche in situazioni difficili Tre punti che lasciano viva una speranza di rimonta sulla capolista Lecce E accendono ancora di più il duello col Catania Sulla panchina del Catanzaro c'è una vecchia conoscenza rossa-azzurra Giuseppe Pancaro, subentrato a Dionigi E chiamato a dare una scossa per i calabresi a secco di punti da metà febbraio L'inizio di gara è proprio a favore dei giallorossi Che creano ma sprecano sottoporta Pesano infatti e non poco gli errori di Nicoletti e puntoriere da pochi passi Al contrario il Trapani sa soffrire e reagire Trovando la rete del vantaggio al minuto 41 con Polidori Il numero 10 sblocca il risultato con un potente sinistro al volo Suspizzata di Silvestri e sigla così il suo primo gol in maglia Granata Il Catanzaro mischia le carte in tavola nella ripresa Complice anche alcune sostituzioni Riesce a rimettere in equilibrio il match L'intervento di Silvestri su Onesco è più che dubbio Ma l'arbitro indica il dischetto calcio di rigore Dagli 11 metri infantino messo in ombra da Fazio nel primo tempo Realizza l'1-1 Cambia la gara? Niente affatto Cinque giri d'orologio e Felice Evacuo si inventa un gol dei suoi Prepotente incursione in aria e tocco di punta a beffare difensore e portiere E l'1-2 che riporta avanti i siciliani La partita conosce emozioni nel giro di pochi secondi Evacuo si fa espellere dal direttore di gara per fallo di frustrazione Su Nicoletti lascia il Trapani in 10 in balia degli attacchi catanzaresi Che dal canto loro non riescono a produrre minacce significative Se non per una conclusione sbilenca di Falcone I Granata soffrono e vincono da grande squadra Quarta vittoria consecutiva e ritmo tambureggiante Per mettere pressione ai quartieri nobili della classifica Ed era questo l'ultimo servizio Vi ringrazio di aver seguito il nostro Ultima Tg E vi lascio la nostra programmazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti